A quasi tre mesi dagli attacchi del 7 ottobre, gli ostaggi rilasciati, i sopravvissuti e le famiglie dei rapiti al festival musicale Supernova, vicino al kibbutz Reim, si sono ritrovati per una cerimonia. I civili morti durante il festival musicale sono 364. Il festival all'aperto musicale Supernova è iniziato il 6 ottobre del 2023 e sarebbe dovuto durare tutto il fine settimana, nell'ovest dell'Israele, nel deserto del Negev, vicino al kibbutz di Reim e a circa 5 km dal confine con la striscia di Gaza. Grazie 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 Grazie